Diciamoci la verità, a 20 anni magari stai fuori fino a tardi e a volte non ti strucchi nemmeno perché pensi ma si sono giovane, che sarà mai? A 30 anni tra videochiamate, smart working, lavoro intenso, non hai tempo neanche di cambiarti le ciabatte e figuriamoci di fare una buona skin care. A 40 non ne parliamo tra lavoro, casa, magari figli, il tempo è sempre poco e la confusione è tanta perché i prodotti skin care sono tantissimi e non sai quali sono più adatti a te. Quindi in questo video voglio vedere con voi qual è la skin care più adatta per 20, 30 e 40 anni con vari consigli utili e spero vi sarà utile. Quindi facciamo un rewind e anche se siamo giovani e vorremmo solo andare a letto passiamo prima dal bagno, ci vogliono letteralmente 2 minuti per struccarsi bene e insomma mantenere la pelle bella anche perché a 20 anni la pelle è un po' impura quindi insomma va detersa. Andiamo per prima cosa a rimuovere il make up con uno struccante rapidissimo questo è quello di Lancome Bifacil che va proprio a struccare in 2 secondi netti e va usato dopo un detergente che va ad purificare la pelle questo è il biosource di biotermo e ve l'ho fatto vedere anche in uno dei miei ultimi video io lo sto usando, mi trovo benissimo è un detergente con estratto di zinco che va a purificare la pelle ma non la secca è un detergente che va anche a idratare la pelle che è importantissimo perché più la pelle è secca e più produce sebo quindi mi raccomando un detergente viso purificante idratante per questa operazione di struccaggio fatto bene ci vogliono circa 2 minuti quindi ricordatevi delle mie parole quando andrete a letto truccate poi ovviamente non possiamo solo struccarci un minuto in più lo usiamo per mettere il siero e la crema usiamo un siero adatto alla nostra tipologia di pelle mi raccomando ad esempio per le pelli giovani è ottimo il Life Plankton Elixir di Bioterm è un sieroviso che uso anch'io perché non è adatto solo alle pelli giovani ma anche a chi vuole proprio rigenerare la pelle come me è un sieroviso che giorno dopo giorno fa questa rigenerazione cellulare grazie proprio al Life Plankton che è nella sua massima concentrazione in questo prodotto se però avete la pelle grassa usate un siero adatto proprio a questa tipologia di pelle ad esempio vi consiglio l'acqua pure super concentrate di Bioterm che è proprio adatto alle pelli grasse io non ce l'ho perché non ho questa tipologia di pelle ma lo trovate su Notino che è il sito con il quale ho collaborato per la creazione di questo video tra l'altro mi hanno dato anche un codice sconto per voi il codice NOTINOSPINK15 con il quale potete avere per un certo periodo di tempo quindi non per sempre tutti i prodotti di questo video scontati e in più una sorpresa speciale una box piena di sorprese e tante altre cosine ma vi lascio tutte le informazioni nel primo commento e in info box e mi raccomando per concludere la skin care dopo il siero non dimenticatevi la crema viso adatta alla vostra tipologia di pelle ma passiamo alla skin care routine 30 anni a 30 anni magari si lavorano tante ore al computer si va insomma con i mezzi di trasporto, la città, lo smog, l'inquinamento e oltretutto la pelle con il passare del tempo diventa un po' più sottile la pelle perde un po' di tono, luminosità quindi cosa dobbiamo fare? prodotto must have il tonico un tonico bello illuminante mi raccomando un tonico che però non vada a seccare troppo la pelle ma che la mantenga idratata io adoro il tonico questo qua per pelli secche di Bioterm ve l'ho fatto vedere anche nello scorso video è un tonico che mi piace tantissimo poi è molto comodo ad usare perché si spruzza sul dischetto e si passa sul viso e lascia la pelle morbida, idratata e luminosa poi se iniziate a vedere un po' di segni di espressione rughettine è normale ma vi consiglio di usare un siero un pochino insomma potente ad esempio il siero advanced genifique anti età di Lancome è un siero viso pazzesco tra l'altro anche come base makeup è bellissimo perché rende la pelle bella, luminosa e levigata questo è un siero che va proprio ad agire contro i primi segni di invecchiamento rende la pelle più luminosa, più compatta in soli 7 giorni si vede la differenza va proprio ad attenuare anche le micro rughette fantastico e mi raccomando dopo i 30 anni è importante che la crema idratante non sia una semplice crema idratante ma che contenga un ingrediente un po' speciale come il retinolo che va giorno dopo giorno a fare una leggera esfoliazione sulla pelle quindi a rigenerarla oltretutto questa crema di bioterm la Blue Pro Retinol oltre al retinolo ha anche l'alga blu con ingredienti formidabili che va proprio a rigenerare la pelle questa è una crema fantastica che potete usare sia la mattina prima del trucco o anche la sera prima di andare a dormire quindi mi raccomando amiche miei trentenni prima di truccarvi la mattina ci vogliono solo 3 minuti per mettere tonico, siero e crema ma devo dire che fa la differenza provateci ma passiamo alla skincare routine quarantenni allora questo sicuramente l'avrete già visto perché sta spopolando è il siero viso d'energie triple serum di Lancome la particolarità di questo siero viso che sta spopolando è veramente un prodotto innovativo è che all'interno vedete ha 3 ingredienti solitamente impossibili da combinare insieme ma che sono formidabili per la nostra pelle e sono acido ialuronico vitamina C più nacinamide e acido ferulico per la prima volta possiamo usarli tutti insieme in un unico prodotto grazie proprio all'applicatore particolare che ha questo siero viso di Lancome tra l'altro questo siero viso super anti-age è perfetto da usare insieme alla crema viso della stessa linea Renergie Multilift Ultra questa crema è super liftante perché contiene l'estratto di semi di lino pro lifting che è un ingrediente ideale contro l'invecchiamento cutaneo legato alla perdita di collagene ha una triplice azione va a levigare, rassodare uniformare la pelle ma se iniziate ad avere anche un po' di rughettine di espressione zampe di gallina insomma l'area contornocchi è un po' più fragile o avete rughe un po' più profonde vi consiglio di inserire nella vostra skin care routine anche il contornocchi che non può mancare questo anche prima dei 40 anni direi da 25 anni in poi perché prevenire è meglio che curare io infatti questo lo applico mattina e sera già da diversi mesi e mi trovo benissimo addirittura mi ha scritto una ragazza che va proprio a schiarire anche le occhiaie più scure ultima cosa vi consiglio la crema viso di bioterm la blu therapy red alghe uplift è una crema viso anti age da usare la sera e tra l'altro questa cremina la potete avere in regalo semplicemente acquistando i prodotti che fanno più al caso vostro che avete visto in questo video prodotti bioterm e lancome sul sito notino fino al 15 maggio c'è questa promo speciale trovate tutte le informazioni in info box per ricevere anche questa box con tutte queste mini size in regalo ecco spero che insomma le idee sulla skin care più adatta a seconda della vostra età siano un po' più chiare e che questo video vi sia piaciuto se è così non dimenticate di lasciare un like vi mando un super bacio ci vediamo prestissimo con un nuovo video ciao ciao